Qualcosa da bere, signore? Sì, grazie. La volta che viene, assaggi un polinesio. È la nostra specialità, il migliore di Madrid. Il numero che tutti attendono inizia tra dieci minuti. Un polinesian per il signore Petro. Un polinesio. 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 Put the blame on me Put the blame on me Put the blame on me